buongiorno oggi vorrei prendere l'esempio questo manuale di scherma con le lame corte per fare un discorso che riguarda la scherma da manuale in generale questo particolare manuale blade master presenta delle tecniche di taglio con le lame corte sono tre lo snap cut che si esegue distendendo premendo e ritraendo il braccio io lo chiamerei taglio tornando il power slash che è un mulinello fondamentalmente e un taglio circolare con il falso filo che si chiama hook cut o taglio a gancio ora in questa disanima di tecniche però manca la tecnica di taglio più semplice della scherma la sciabolata gritta distendo eseguo la stretta in tempo e ho colpito perché nel manuale non c'è questo punto mi permette di evidenziare una pecca della scherma da manuale in genere questa pecca è che i manuali tendono a concentrarsi sulle tecniche complesse avanzate e a dimenticarsi gli elementi fondamentali in questo caso il taglio base cioè la sciabolata detta grazie per l'attenzione